Un cordiale saluto cari amici, ben trovati all'appuntamento con Misa Sanità, tanti argomenti in scaletta anche in questo numero della nostra trasmissione, servizi, interviste e notizie che prendono spunto dalla rivista Misa Sanità che proprio in questi giorni è in distribuzione in coincidenza come sempre con l'uscita della nostra trasmissione televisiva. Vedremo un servizio sull'inaugurazione del nuovo monoblocco dell'ospedale di Senigallia, alla quale hanno preso parte tante persone, abbiamo preparato anche un pezzo sul nuovo servizio proposto dall'Andos, quindi le interviste con le dottoresse Serie Cingolani su una campagna contro il maltrattamento delle donne promossa dalla zona territoriale 4 insieme ad altre istituzioni e dal dottor Martini sulla riabilitazione delle donne operate al seno. Altre notizie, i saluti per il recente pensionamento dei tre primari, l'inaugurazione dei locali rinnovati del centro dialisi, parleremo quindi di problemi alla tiroide, di un convegno sulle patiti croniche ed altro ancora, ma adesso subito il servizio sull'inaugurazione del nuovo monoblocco, momento molto importante per la sanità senigalliese e non solo. Vediamo. Anche a qualche settimana di distanza restano ancora vive le immagini di quella che è stata senza dubbio, lo scorso 17 gennaio, una giornata storica per la sanità senigalliese, con l'inaugurazione del nuovo monoblocco dell'ospedale cittadino. È una festa e siamo felicissimi di viverla assieme a tante iniziative collaterali che sono quelle dei volontari, quindi è una giornata felice per noi. Una giornata felice alla presenza di tantissime autorità. Sì, sono tutte presenti e questo per noi è un vanto, è un onore perché significa che il nostro ospedale è al centro delle loro attenzioni, quindi ci dà tanta forza per proseguire in questo lavoro che facciamo quotidiano. Nella nuova struttura verranno collocati i servizi sanitari in spazi più moderni e funzionali e, grazie anche alla complanarità con il vecchio monoblocco, organizzate al meglio le attività. Con lo spostamento delle casse al nuovo monoblocco, ad esempio, verrà guadagnato spazio importante per il servizio trasfusionale. Anche il personale potrà ovviamente operare in spazi più adeguati. L'evento, al quale hanno preso parte numerose autorità, ha visto riunite le associazioni di volontariato del territorio che hanno esposto materiale informativo delle loro iniziative. Presente anche il Dipartimento per le politiche di sicurezza della Regione Marche. Insieme all'originale animazione affidata al gruppo VIP Clown Cioffega di Senigallia, che si impegna da anni a far sorridere bambini e adulti ricoverati negli ospedali, dopo il taglio del nastro si sono tenuti momenti musicali di intrattenimento a cura dell'Accademia Corale Calicanto e di Fantastic Four per le tante persone presenti per l'occasione. A dimostrare che, come recitava lo slogan dell'iniziativa, si è realmente raggiunto l'obiettivo di un ospedale di tutti. Questa è una delle caratteristiche di Senigallia, vede? Tutto quello che facciamo qua riesce bene. Mi è venuto in mente che è fortuna. La fortuna non è cecca. La fortuna sta vicino a chi è capace. Qui abbiamo un gruppo dirigente capace, che ha una grande visione della sanità, di una sanità buona, di una sanità colorata, di una sanità per la gente. Oltre al servizio di dialisi, al piano terra sarà sistemata la risonanza magnetica e una nuova attacca di ultima generazione. Al primo piano, l'unità operativa di radiologia e tutte le diagnostiche. Gli altri piani saranno destinate alle degenze. E già nello scorso mese di dicembre erano stati inaugurati invece i rinnovati locali della sezione dialisi, che fanno parte dell'unità operativa diretta dal dottor Rolando Boggi, grazie ai quali i pazienti possono seguire la loro terapia in un ambiente decisamente più confortevole. Alla cerimonia rappresenta anche il segretario regionale dell'Associazione Nazionale Modializzati, Marianna Lollin, rappresentanza dei tanti malati di rene che hanno vissuto la storia di questa struttura ma che non sono più tra noi. In particolare è stato ricordato Claudio Castelli, storico dializzato senigallese, che ha vissuto con impegno e passione tutta la lunga battaglia che ha permesso di portare questo importante centro a Senigallia.